A Catania per l'attivo provinciale dei candidati RSU della funzione pubblica della CGL i segretari nazionali Enrico Panini e Salvatore Chiaramonte sono intervenuti al Monastero dei Benedettini e è stata l'occasione per fare, dall'ottica del più grande sindacato nazionale, il punto della situazione sulla riforma del lavoro in discussione in questi giorni e sulla condizione del Mezzogiorno e della Sicilia in particolare. Il dialogo col governo Monti non va bene. Non va bene perché il Presidente Monti pensa di parlare con noi solo sui temi che lui giudica di stretta pertinenza di un'organizzazione sindacale, come se i temi fiscali o i temi della sanità o i diritti generali dei cittadini non fossero questioni che noi abbiamo per anni rappresentato e che intendiamo rappresentare anche in questa occasione. Noi siamo per fare un accordo sul mercato del lavoro, nel senso che l'attuale situazione non ci va bene, troppo precariato, poco occupazione, una scarsissima qualità media del lavoro. Però non siamo disponibili a fare né riforme a costo zero, per cui si promettono i sogni a tutto il Paese, ma in realtà non si investe un euro che sia uno, né siamo disponibili ad indebolire i diritti di alcuno. Il lavoro dovrebbe essere al centro di ogni ragionamento sulle possibilità di ripresa, di uscita dalla crisi, di slancio di territori come quello del mezzogiorno e come quello siciliano che avrebbero bisogno di un cambio di marcia. Nelle pubbliche amministrazioni il lavoro anch'esso deve tornare ad essere centrale. Noi pensiamo che una pubblica amministrazione efficiente ed efficace, con i giusti riconoscimenti al lavoro pubblico, possa svolgere un ruolo fondamentale e centrale per la ripresa e la crescita del Paese.